Ho saputo dalla live di un mio amico questo pomeriggio, anzi no, questa sera, di un amico youtuber di cui non voglio fare il nome, che Matteo Montesi ne aveva combinata una delle sue, e ne aveva combinata una delle sue, e poi sono andato a cercare in internet e ho visto che effettivamente le cose stavano così, e poi ho anche saputo di cose che avrebbe fatto il nostro caro amico Matteo Montesi nel passato, cose che non sapevo fino ad adesso. Perché io non ho tempo di guardare tutti i suoi video, e io mi ricordo che già ultimamente l'ho ripreso a guardare, perché mi ricordo che ha iniziato a fare dei video, lui di solito li faceva corti, brevi, esilaranti e irrompenti, e poi c'è stato un periodo, non so se nel 2013-2015, che ha iniziato a fare video di due o tre ore, video di un'ora, video di cinque ore, ha fatto anche dei video di otto ore, dodici ore, non so, una cosa pazzesca, magari ne metteva insieme molti. Ma mi ricordo che un video era una camminata in mezzo ai prati, poi prendeva la macchina, viaggiava mezz'ora, andava da qualche altra parte, non necessariamente erano dei video di bucaggi, ma duravano troppo, poi, oh, questo è uno stello d'erba, questo è un albero, erano video molto descrittivi. Ogni centimetro che camminava descriveva qualcosa, e io gliel'ho detto. Caro Montesi, mi piacerebbe continuare a guardare i tuoi video, ma fagli più corti, per dinci, fagli più corti, perché se li fai di mezz'oretta, di un'oretta, li guardo, guardo anche quattro cinque, ma se ti fai delle passeggiate, delle scarpinate di otto ore, capito, solo per descrivere l'ambiente, fai dei video, e non ti posso seguire, è difficile. E allora, oggi ho saputo che lui, volendo praticare un rituale, possibilmente, ha incendiato una casa che già di suo era abbandonata e fattiscente, ma l'ha incendiata per completo. E poi ho visto che fa dei rituali con la croce invertita, ma invocando Gesù. E ho anche letto in internet, le notizie riguardo l'ultimo incendio sono scarse. Giusto nel giornale dove anche lui pubblica, c'è qualcosa. Ma mi sono informato e già nel 2015-2010 aveva prodotto degli incendi, anche al centro di un paese. E quindi è una cosa incredibile. Poi le parafrenaglie e le invocazioni che utilizza. Caro Matteo Montesi, ma tu sì che sei incassinato, stai facendo una confusione madornale, ma invochi Gesù, reciti delle preghiere cristiane, cattoliche, leggi la Biblia, metti la croce al contrario, vuoi esorcizzare i demoni col fuoco. Ma lo sai che la purificazione col fuoco era una pratica medievale, che ormai è dissueta, è anacronistica. Se dici che in una casa, possibilmente perché abbandonata, ci sono demoni, alieni o chi altro vuoi immaginarti tu, ma come puoi purificarla col fuoco incendiando tutto? Ma è una pazzia. Gli inquisitori cristiani, cattolici, purificavano col fuoco, come vuoi fare tu. Ma allora perché metti il crocefisso al contrario e pronunci il nome di Gesù e di potenze? È un controsenso. Guarda, innanzitutto, ti raccomando, caro Matteo Montesi, e quante persone lo conoscano, gli raccomando a queste persone di dirglielo, che si deve istruire un po', non può improvvisare. Deve innanzitutto leggere le opere del padre dell'occultismo e dell'esoterismo moderno. Io ho pubblicato dei commenti in Instagram. E poi, magari lega anche l'occultismo della signora Elena Petrovna Hahn, conosciuta meglio col suo nome da sposata, Elena Petrovna Blavatsky, la russa Blavatsky, che ha fondato negli Stati Uniti la Società Teosofica, che in pratica è una reinterpretazione dell'ossotero occultismo europeo di fine ottocento, con chiavi di lettura orientali, soprattutto hinduismo, ma anche buddismo, e soprattutto la visione dell'aura e della fisiologia occulta della metafisica tantrica. E poi, di studiarti un po' di rituali, macumba, candomblé, soprattutto kimbanda. Ecco, io ho cercato di interpretare un rituale kimbanda. Se tu, se tutti voi guardate nel mio canale, Pombagira, ecco, c'è un video dove cerco di realizzare una danza estatica di quelle che realizzano i praticanti del kimbanda. Ed è una pratica di danza estatica di Pombagira. L'ho interpretato a mio modo, però è un rituale nel quale l'officiante, il demiurgo, si ritrova a essere cavalcato da questo spirito, che in pratica i culti della kimbanda afroamericani sono animisti. Quello significa che, ugualmente, a quanto succede nel cattolicesimo, che c'è la festa dei morti e la festa di tutti i santi, se tu evochi un santo, stai evocando un morto. Allora, nella kimbanda afro-brasilegna, si evocano le potenze ktoni, cioè gli etzu, le pombagira, tutti e tutte hanno come simbolo i tridenti, i tridenti rotondi per le pombagira, perché sono femmine, e i tridenti quadrati per gli etzu. Allora, cerca Matteo Montesi nel mio canale e vedrai che ho cercato di emulare o di realizzare, la seconda, come si voglia vedere, una danza di pombagira. E io ti invito, quindi, a fare chiarezza nella tua mente, perché il rischio è quello che tu fai confusione, caro amico mio, tu fai confusione, poi diventi pazzo. Io, veramente, ho praticato poco o nulla di esoterismo e di occultismo e ti voglio mettere in guardia perché molti studiosi o molti avventurieri, molti curiosi soprattutto, che si sono avventurati in certi campi, ne sono usciti pazzi, perché, veramente, bisogna avere una mente molto disciplinata. Allora, leggi, leggi, rileggi, invegni ora et labora. Perché, veramente, se no fai la fine di Pacciani, che dicono che lui si sia immerso nel torbido, lui abbia iniziato a fare come te, il pazzarello, a ricercare sempre di più, negli arcani, nei misteri, nei rituali, e poi è andato a finire come è andato a finire. Una vita sprecata, una vecchiaia veramente dannata, e non diannata, è dannata, e poi il delirio, la pazzia, gli omicidi. veramente dovresti ripigliarti un po', perché, altrimenti, hai poche uscite, se continui a fare bucacci incendiari. o entri in un manicomio, o entri in una carcere, o fai una fine incluso peggiore, perché ricordati, che a giocare col fuoco ci si brucia sempre, e tu non soltanto stai giocando col fuoco, perché appicci fuoco, per purificare le casse abbandonate, che già hai avuto molti precedenti, e io non lo sapevo, non lo sapevo mica. E questo radioprogramma, in sprecher, lo faccio a questa ora della notte, anzi, forse della mattina, sarebbe più caso di dire, quando uno ancora non ha dormito, gli sembra che è notte, ma se si sveglia a quest'ora, è mattino. E sono quasi le cinque del mattino. Io a volte faccio molto tardi. Ma, come dire, e non dico su cosa sto meditando, ma ti conviene se non vuoi fare la stessa fine di Pacciani, di Amanda Nott, di tutti quelli che hanno prodotto dei rari omicidi, insomma, che hanno avuto una vita dannata, di rivederti, e soprattutto, tanto per sapere da che parte stare, e come, perché certe potenze, come scrisse Howard Philip Lovecraft, lui che di demoni si intendeva, bisogna saperle mandare indietro una volta che si sono evocate o di invocate. E tu, mi sembra che no, perché ti sta perseguitando la sciagura, allora certe potenze non le tieni sotto controllo. poi ti consiglio per controllare le potenze che ami evocare o di invocare che non basta avere un controllo superficiale di immagini, simboli, colori, suoni, luci, e soprattutto ciò che tu più prediligi, la potenza del fuoco, ogni fuoco, incendiaria, ma devi avere anche delle guide. Cerca di comprarti delle guide della Kimbanda, dell'Umbanda, della Santeria, come a volte io sto indossando nei miei ultimi live. È un consiglio che ti do disinteressato. Sto rivelando certe cose che di solito non rivelo. e poi usa dei ceri e delle candele soprattutto rossi, neri e anche bicolori o tricolori che sono impiegati nell'Umbanda, nella Santeria, nella e in tutti questi riti afro-americani e afro-brasiliani. E poi ti consiglio anche di comprare dei gessetti colorati per tracciare i pontoriscao, cioè l'equivalente degli yantrandu, perché ci sono delle immagini. Se vuoi puoi anche utilizzare la clavicola minore del re Salomone. Lì c'è una pubblicata proprio da Leister Crowley, quindi andrà in brodo di giugiole perché proprio è la clavicola degli spiriti maligni. Poi ci sono anche dei libri di yantra hindu oppure di diagrammi dell'esoterismo e dell'occultismo medievale, ma devi fare il tutto ordinatamente, non puoi fare le cose caoticamente senza guida, perché senza un circolo protettivo ed è punto riscao e delle candele di colore e delle guide, veramente non controllerai ciò che stai evocando e poi non lo potrai rimandare indietro. Con questo ti saluto, vi saluto a tutte e tutti voi e al prossimo radioprogramma Sprecher che salverò in Youtube e in Facebook. Tanti saluti e fatemi delle domande, ciao! e condividete questo video!